Nel 71 io ho partecipato al Giro Direttati per la prima volta perché l'anno prima era la prima edizione, nel 70 l'avevo visto sulla stampa perché non avevo partecipato, ero una squadra da solo, non è che potevo partecipare. E poi invece col Bottegona abbiamo deciso di partecipare al Giro Direttati, è stata certamente una bella corsa, forse la prima gara è veramente importante anche se abbiamo vinto tante classiche di un giorno, però in quel periodo ce n'erano meno forse adatte per i militanti. Poi dopo è andato avanti per parecchi anni, poi forse la crisi, forse è stata un po' sospesa dell'organizzazione, adesso Cassani ha voluto in tutti i modi riportare questa manifestazione che credo sia importante per quello che è i giovani, per abituarli a fare anche le corsa adatte perché viene a cominciare presto a fare, altrimenti non si impara. Grazie a tutti.